Io vorrei cominciare un brevissimo intervento raccontando di un articolo che abbiamo rilanciato sulla nostra piattaforma informativa del The Guardian che ha inserito il nostro Sebastiano Rendina che cura questa rubrica giornalistica, il quale articolo raccontava di una conferenza avvenuta a Londra lo scorso 27 maggio, era la conferenza sul capitalismo inclusivo. Nella sala in cui questa conferenza a Londra si è realizzata, e la sala era solo una, c'era un terzo della liquidità rappresentato, un terzo della liquidità mondiale. Quindi questo terzo della liquidità mondiale si domandava cosa si dovesse fare per tamponare l'ormai fortissimo rischio di una rivolta sociale di fronte alle sperequazioni che la crisi ha generato sui meccanismi economici, finanziari e quindi anche sulla società civile. In altri termini si cercava di capire quale dovesse essere un capitalismo socialmente più irresponsabile perché si ha paura che questa tensione sulle sperequazioni sociali, economiche e finanziarie possa avere una deriva. Tra le dichiarazioni che sono state fatte mi ha colpito quella di un influente britannico ai più sconosciuto Alan Mendoza, il quale diceva abbiamo ritenuto che tale è il disgusto per il sistema pubblico che ci sia il concreto pericolo di una reazione dei politici i quali potrebbero anche cercare di porre rimedio alla situazione di un capitalismo legiferante. Un'altra colorita affermazione viene dal direttore di McKinsey, Dominic Barton il quale dopo aver sentito 400 stakeholder tra capi di Stato e imprese afferma c'è una crescente preoccupazione perché se le questioni fondamentali non vengono affrontate rischia di saltare il contratto sociale tra il sistema capitalistico e la cittadinanza e questo può danneggiare gravemente i risultati naturalmente finanziari. Al di là però di queste drammatiche note di folclore il The Guardian e anche il Wall Street Journal hanno commentato come questa conferenza sul capitalismo inclusivo abbia sì riconosciuto l'esistenza di certi problemi ma poi li abbia affrontati solo nella superficie quindi diciamo arrivando a denunciare un problema ma poi dicendo che la cosa va risolta facendo un po' di comunicazione e cercando di rimettere un po' di fiducia verso il capitalismo nella società civile quindi diciamo pagliativi. Ora questa è la giornata mondiale dell'ambiente che è dedicata ai decisori politici ed economici e quindi diciamo anche se la terra è di tutti noi oggi dovremmo parlare di quello che è il ruolo di chi decide e siccome ci troviamo in una situazione di globalizzazione ancora molto immatura in cui la speculazione, lo sfruttamento delle risorse così diciamo sconsiderato da parte di pochi rischia di mettere a rischio la bellezza e la ricchezza non solo dei molti di questa generazione ma anche delle generazioni future diventa importante che questi decisori politici ed economici si sentano chiamati a fare la differenza e se vogliamo anche essere un po' enfatici a fare un po' la storia il cambiamento è un cambiamento necessario è un cambiamento possibile ma è anche un cambiamento esaltante perché ha dimostrato in più occasioni anche se a macchia di leopardo di essere realizzabile, di essere concreto oggi alla FAO riportiamo delle proposte quindi di sviluppo sostenibile concrete affermando che dobbiamo ripartire dai territori che sono alla base del nostro modello economico e che condividono al proprio interno la tutela per un ecosistema e quindi come per le montagne partire dalla cellula fondamentale del territorio vuol dire sperimentare modelli di sviluppo sostenibile poi da proporre al mondo e attraverso i quali poi proporsi al mondo applicare in questi territori le migliori innovazioni in campo sociale, economico e anche ambientale e finanziario e trovare il colaggio e l'orgoglio di sapersi parte di un sistema che si deve dialogare con il mondo globale con l'economia globale ma forte anche di una propria capacità di una propria intelligenza l'intelligenza che si è saputa dare al proprio territorio siamo alla vigilia di una riforma del terzo settore che speriamo tutti che possa restituire dignità alla parola sussidiarietà perché siamo anche convinti che si avrà molta più sostenibilità nella condivisione delle decisioni piuttosto che non nel subire le decisioni dall'alto che spesso sono a tutela di interessi perversi e siamo anche fortemente convinti che il crescere di una coscienza critica dei movimenti della rete il crescere delle imprese sociali la nascita di nuovi modelli finanziari che oggi racconteremo e di nuove possibilità di partenariato tra pubblico e privato siano la più concreta speranza che abbiamo di cambiamento se conferenze come quelle di Londra vanno in quel modo io ho finito volevo ringraziare intanto la FAO nelle persone del Edoardo Rojas di Maria De Cristofaro di Thomas Hofer e di Losa Laura Romeo che ci hanno aiutati a realizzare queste celebrazioni e che da anni ormai sono partner di Earth Day Italia nelle celebrazioni dell'Erd Day vorrei ringraziare questo numeroso pubblico che è un pubblico qualificato e che continueremo a sollecitare con il quale continueremo a dialogare poi sulla rete perché questo non sia un convegno nel quale si parla ma poi non si fa ecco la rete speriamo dia dei frutti e approfitto anche per ricordare che c'è un'applicazione su tutte le piattaforme mobile che potete scaricare e che si chiama Forum Terra Italia nel quale già adesso tra voi potete dialogare su mobile volevo anche ringraziare i tanti relatori che sono intervenuti in rappresentanza di istituzioni e di organizzazioni molto autorevoli a testimoniare esperienze concrete e rappresentazioni di futuri realmente possibili quindi ringrazio Renato Grimaldi direttore generale del Ministero dell'Ambiente Fabio Refrigeri Assessore all'Ambiente della Regione Lazio Mads Edkins della World Bank del progetto Connect for Climate della World Bank Edo Ronchi della Fondazione Sviluppo Sostenibile Marco Frey di Cittadinanza Attiva Davide Dalmaso del Forum della Finanza Sostenibile Federico Mento della Human Foundation che è coinvolta tra l'altro nella Social Investment Task Force del G8 Alessandra Viscovi direttore generale di Etica SGR Elena Casolari presidente di Opes Impact Found Vincenzo Linarello presidente del gruppo cooperativo Goel e Roberta Cafrotti il nostro direttore scientifico infine ringrazio i tanti media partner che hanno sostenuto che sono visibili nei nostri pannelli e nelle nostre grafiche e che alcuni dei quali hanno anche voluto aiutarci nella moderazione li leggo in ordine di apparizione Tony Mira di Avvenire Stefania De Francesco dell'Anza Antonella Divizia della Rai Al termine di questa mattinata che speriamo sia produttiva anche se gli interventi saranno tutti molto brevi faremo un piccolo gesto doneremo alla città di Roma una mostra fotografica bellissima che abbiamo realizzato con gli amici di Shoot for Change insieme a bravissimi fotografi di fama internazionale una mostra che si chiama Cambiamo Clima dove il clima che bisogna cambiare è il clima sociale saranno con noi Stella Marino assessore all'ambiente della città di Roma Paolo Masini assessore alle periferie Gabriella Paolino responsabile del progetto Cultura dei centri culturali per Zetema e Andrea Santoro presidente del municipio di Roma Capitale municipio nono grazie e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti